La prima terrazza panoramica dell'area dolomitica dichiarata Patrimonio Mondiale Unesco è stata inaugurata sul Monte Specie nel Parco Fanes Senes Braies, alla presenza dell'assessore provinciale Richard Heiner, che è anche presidente della Fondazione Dolomiti Unesco. A coordinare la realizzazione del progetto pilota è stato l'Ufficio Provinciale Parchi Naturali. Il direttore regente dell'Ufficio Provinciale Parchi Naturali Enrico Brutti ha ringraziato per la buona collaborazione le quattro ripartizioni provinciali, opere idrauliche, geologia, servizio strade e infrastrutture e le imprese che hanno lavorato alla realizzazione del progetto pilota. Questa installazione, questa terrazza panoramica è stata realizzata su questo sito sostanzialmente per due motivi. Il primo per il paesaggio mozzafiato che questa postazione ci offre e il secondo perché ci troviamo in una zona di confine. Confine tra sostanzialmente due comuni della provincia di Bolzano, il comune di Dobbiaco e il comune di Braies e soprattutto perché ci troviamo verso il confine con la provincia di Belluno, con le bellissime montagne del Bellunese. Questo è uno dei fondamenti dello spirito di Unesco, delle popolazioni che sono da riunire all'interno di un unico progetto, di un'unica strategia. Alla base del progetto c'è un piano generale di terrazze panoramiche, 20 complessivamente, di cui 7 in Alto Adige, elaborato assieme ad un prototipo di struttura su incarico della Fondazione Dolomiti Unesco. L'obiettivo è quello di mettere in rete tutte le nove aree delle Dolomiti patrimonio mondiale.